Io sono una buzza, vengo da un posto lontanissimo insieme alla mia ancella perché questa sera abbiamo un messaggio per voi, un messaggio molto molto importante e vorremmo farvi vedere una cosa da cui parte tutto quello che avremmo da dirvi questa sera ed è precisamente questo vaso. A parlarti sono io, prometteo, il glorioso eroe avvolto dal sermoso panno che si sacrificò per il bene dell'umanità. Guardatemi, mentre dancio in mezzo ai satiri, io sono colui che vi ha consegnato il fuoco dopo averlo rubato agli dèi. Tantissimo tempo fa non si conosceva l'utilizzo del fuoco. Gli dèi prodivano gelosamente questo prezioso elemento con il quale dominavano gli uomini. Presi il fuoco nella sua piscina grazie a uno speciale bastone che ardeva ma che non veniva consumato dalle fiamme. Lo rubai e fuggì dall'olipo precipitandoli sulla terra dove accesi in mezzo il palo attorno a cui festeggiavano, protetti dalla calda luce delle fiamme, gli uomini che prima vivevano in solitudine. Visto il fumo delle bracci dall'olipo, Zeus capì che ciò che avevo fatto ed infuriato mi punì. Il prometto è rimasto incatenato quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per liberarlo. Allora io vi ringrazio tantissimo che siete venuti al museo perché a noi è fatto tantissimo piacere che voi siate venuti qua stasera a giocare con noi e a divertirvi nelle sale. Quindi se vi è piaciuto questo gioco che abbiamo organizzato apposta per voi, noi veramente ne siamo molto contenti.